Abbiamo vissuto questi giorni con i ragazzi del Benin che erano qui da noi per il Mondiale. La settimana scorsa hanno giocato chiaramente per il Campeonato del Mondo, è stato per loro un grosso successo. È stata un'esperienza nuova vedere i ragazzi che erano al centro Africa che venivano qui a giocare il nostro sport, che sembravano sport solo locale nostro, ma si vede le potenzialità dell'Indoor, sono notevoli, può allargarsi come sport. Poi questa settimana invece è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, vedere questi sia martedì che giovedì allenarsi con i nostri bambini, con i bambini di 7-8 anni, perché anche loro hanno iniziato l'attività nelle scuole nel loro paese, nelle scuole del Benin e hanno chiesto loro proprio di poter provare e venersi con noi per vedere come facciamo noi e per migliorare loro. È stata un'esperienza molto bella, utile anche per i bambini che non relazionassi con questi. È stata una cosa per me, secondo me anche a livello umano, a livello razionale, estremamente interessante e positiva.